Iole Santelli, la bella, brava e buona presidente della regione Calabria, è morta a seguito di una lunga malattia. Io avevo parlato di Iole Santelli agli inizi dello scorso mese di maggio in un video intitolato Iole Santelli e i bar, dove io parlavo bene dei bar, dove io dicevo che i bar dovrebbero restare sempre aperti, proprio come voleva Iole Santelli, perché io considero i bar luoghi di socializzazione che integrano la socializzazione che avviene dentro la famiglia monogamica patriarcale. Ecco, io il video che avevo dedicato a Iole Santelli agli inizi del mese di maggio scorso, ve lo metto come link riassunto di questo video. Davo ragione a Iole Santelli che voleva che i bar restassero aperti, nonostante il Covid-19. Ah, tengo a precisare che Iole Santelli era presidente della regione Calabria e questa mia opera storico-mitologica è stata pubblicata dalla casa editrice Leonida Edizioni, che si trova a Reggio Calabria, che si trova a Reggio Calabria e la regione Calabria aveva come governatrice Iole Santelli. Ora si dovrà fare un nuovo governatore o una nuova governatrice. Mi dispiace tanto per la scomparsa della bella e brava e buona governatrice Iole Santelli e chiudo il video dicendo a tutti tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.